La tranquillità della notte tra i residenti di Vianiscemi e Gela è stata squarciata dal violentissimo e devastante incendio che ha completamente distrutto il distributore di benzina Eni appartenente alla famiglia d'arma che sorge a pochi passi dall'istituto scolastico Paolo Emiliani Giudici un rogo che non ha lasciato scampo all'attività commerciale sono da accertare le cause anche se la pista dolosa è quella più accreditata le fiamme hanno avvolto il locale distruggendo tutto fortunatamente il fuoco non ha attaccato le pompe di erogazione del carburante è stato prontamente spento dai pompieri del locale distaccamento i quali hanno scongiurato il peggio le indagini sono dirette dalla polizia del locale commissariato agli ordini del dirigente Francesco Marino a requisite le immagini del sistema di videosorveglianza collocate nell'area di servizio i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il cagnolino di proprietà della famiglia d'arma che si trovava all'interno del locale questa mattina così come si vince dalle immagini si è presentata una scena surreale agli occhi di tutti un'attività commerciale totalmente rasa al solo il distributore di benzina di Vieniscemi è attivo da due anni a questa parte e i proprietari subito dopo l'inaugurazione si sono sempre adoperati al fine di renderlo più accogliente e confortevole per i clienti per domani a Gera il prefetto di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica interverranno i vertici provinciali della forza dell'ordine il procuratore della Repubblica Fernando Asalo e il sindaco Domenico Messinese si farà il punto su quanto sta accadendo in città un approfondito esame del comprensore gelese recentemente interessato dalla riacutizzarsi di episodi di criminalità tra cui ultimamente le pistolettate all'indirizzo di due panifici